Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Top 10 Doppiatori, dedicata a una doppiatrice eccezionale, che è una dei pilastri del doppiaggio di anime e serie animate, Marcella Silvestri. Nata a Genova il 25 aprile del 1961, la Silvestri da oltre 30 anni entra nel cuore dei bambini e degli aspiranti doppiatori, grazie alla sua versatile voce, che le permette di doppiare sia personaggi maschili che femminili di qualsiasi età, che siano protagonisti o antagonisti, come ad esempio la sensuale Harley Quinn nella serie dei Barkan Arkham. Allora vengo a sapere che ti tieni un'intera generazione di nuove Joker tutta per te. Lo so. Imbarazzante. La sua vita non è stata solo nel panorama del doppiaggio, ma anche in quello televisivo. I più grandi di voi si ricorderanno della sua partecipazione a vari sketch nei programmi dei mai dire, tra cui quella in cui interpretava Cassandra in sensualità a corte. Se ti dico petting, tu cosa mi rispondi? Vediamo, vediamo. Tazzoling. Ma cosa? Ha detto spazzoli. Sì, ha detto spazzoli. Purtroppo sì. Eh, lo so. Eh, lo so, Cassandra. In questo video vi mostrerò quelli che ritengo. Voglio specificare che io ritengo, per il semplice fatto che questa è una classifica puramente soggettiva, i personaggi più importanti e più influenti da lei doppiati. Buona visione. Oggi sei di pessimo umore. Lo saresti anche tu se tua madre stesse facendo gli occhi dolci al tuo professore di storia. Davvero? Vai, mamma di Will! Gli innamorati vengono qui per dichiararsi. Ti immagini se tua madre venisse con il professor Collins? La mia vita sarebbe finita. Questa l'ho visto fare agli indiani in televisione. Ascoltando il terreno riuscivano a volte a sentire arrivare i bisonti. Spero solo per le vostre famiglie che siate assicurati. E racconta, da quanto tempo state insieme? Da molti mesi ormai. Quindi pensi che sia una storia in grado di superare la lontananza? Beh, mi auguro proprio di sì. Vi siete mai baciati? Certo, ma che domande? Ehi, Ginny, perché non la smetti di tormentarlo così? Ma cosa dici? Che c'è di male? Gli stavo soltanto facendo delle domande, tanto per conoscerci meglio. Non mi sento tranquilla. I nostri sensori indicano che il dottor X è ancora in questa zona. È per questo motivo che siamo qui. Non appena si farà vedere noi lo cattureremo. Tu non preoccuparti. Non sono preoccupata, sto solo sul chi va avanti. E ti consiglio di fare lo stesso. Molto presto il potere nero del cristallo Corvino verrà scagliato sul vostro pianeta. Quando verrete colpiti, non avrete più scappo. La terra verrà distrutta e voi tutti verrete schiacciati. Nessuno sopravviverà all'invasione. Ci vediamo più tardi. No, sei troppo stanco. Ci penso io a recuperarli. Tu vai pure a mangiare. Ma io non ho fame. Dai, non dire sciocchezze. Torno su. Grazie, Krillie. Ricordati di ordinare anche per me. Certo. Ecco fatto, ho finito. I confetti sono fatti così. Veramente? Non abbiamo niente del genere nella nostra dispensa. Sono lucidi e sotto la luce scintillano e non somigliano alle caramelle. Quelli veri sono più belli di questo disegno. Mi piacerebbe poterveli mostrare. Già, ma è possibile raggiungerli. Laura li ha messi troppo in alto. Non puoi entrare in casa così. Qualcuno della famiglia potrebbe vederti. Sei sciocco come te, non mi vedrà. Ma perché devi sempre insultarmi? Via libera. Lo vedo anch'io. Stai calma, Doremi. Devi stare calma. Stamattina quando ho aperto gli occhi erano già le otto e mezza perché la mamma, come al solito, si è dimenticata di svegliarmi. Stavo per correre a scuola, ma lei mi ha fermato. Non c'è problema, ti accompagno in mattina. Oh, Rubi, sei un angelo. Grazie, grazie infinito. Non so proprio come farai senza di te e tu riesci sempre a cavarmi dai pasticci. Se non esistessi dovrebbero inventarti, sei il mio angelo custode. Su, andiamo. Ciao, mamma. Ci vediamo dopo. Siccome mi piace ti dirò un segreto. L'altro giorno ho notato una cosa molto strana. Che cosa hai notato? Sentiamo. Sono sicura che a quella ragazza C è stato fatto un incantesimo. Che cosa? Un incantesimo. Ma Rubi, si può sapere perché non me l'hai detto prima? Semplice perché me ne sono dimenticata. Non ho paura di loro. Mi farò fuggire ad ali elevate. Wow, questo caso sembra un'altalena. Un giorno avrò anche un giardino come questo. Finalmente, dopo tutti i test effettuati, sono giunta a una conclusione. Non ho idea di come funzioni la magia in questo mondo. Se sono soltanto 99. Sono sicuro di averli contati bene. Hai sbagliato. Io li ho contati più di una volta e ti dico che sono solo 99. Beh, probabilmente ti sei confuso. Insomma, adesso smettila. Sei tu che hai sbagliato a contarli, hai capito? No, sono sicuro che sono 100. Ora basta, sono 99. Sono 100. No, 99. Non è una volta e ciò che non si può fare. Non è un giudizio. Non è una volta e ciò che non si può fare. Non è una volta e ciò che è la cura.